Quando acquistate un computer fate ovviamente una scelta così come per qualsiasi altro prodotto e magari andate a bilanciare quello che può essere il budget e magari nel caso di un portatile le dimensioni dello schermo, le prestazioni, l'autonomia, la portabilità. Non c'è una risposta giusta, non c'è una ricetta perfetta ma ogni produttore ovviamente cerca di proporre la sua magari anche per linee di prodotto e in effetti la cosa complicata ad oggi è che ci sono veramente tantissimi portatili e molto spesso alcuni seguono dei filoni quindi non vanno a discostarsi tanto dagli altri infatti ci si chiede magari perché non trovo un computer proprio con le caratteristiche che voglio io. Chi compra i computer Apple ad esempio come spesso faccio io stesso sa che spende di più rispetto a quello che ci dà in termini di nudo hardware ma evidentemente se lo facciamo è perché troviamo altri vantaggi vantaggi che possono essere il sistema operativo, alcune app che sono specifiche della piattaforma o ancora il design, l'assistenza, non lo so metteteci voi quello che volete non è qui un discorso che voglio fare di comparazione tra Mac e PC d'altronde sapete che utilizzo regolarmente anche i computer Windows e tra l'altro quando li assemblo lo faccio anche perché proprio mi danno la possibilità di raggiungere maggiori prestazioni con minor spesa quindi è una cosa palese insomma non è una cosa che si discute secondo me. Ed è proprio in quest'ottica che ho trovato all'interno della famiglia MSI un computer portatile secondo me molto interessante, infatti ho chiesto se fosse possibile testarlo, fortunatamente mi hanno detto di sì. Ed è interessante perché sembra voler bilanciare praticamente ogni cosa, infatti lo schermo non è troppo grande ma non è neanche troppo piccolo, ha una scheda grafica dedicata ma non costa troppo, non sacrifica neanche tanto l'autonomia o la portabilità, insomma sembra veramente centrare tutti gli obiettivi. Quindi andiamo a vederlo più da vicino, si chiama Prestige 14 e lo vedete anche lì dietro. Ed eccolo nella sua versione bianca, ovviamente c'è anche quella nera ma a me questa è piaciuta insomma come colpo d'occhio solo che ha un paio di difetti nel senso che questo sensore per l'impronta digitale che sta sul touchpad è nero e onestamente il contrasto non è bello. E poi anche il fatto che la retroilluminazione sulla tastiera in alcuni casi è davvero invisibile o meglio rende invisibile proprio i tasti perché magari se l'illuminazione dell'ambiente è un po' a metà quindi non troppo buio ma neanche troppo luminoso o siamo da una inclinazione di visuale non perfetta, si vanno a confondere le luci e il bianco della tastiera praticamente non si legge nulla, infatti molto spesso come in questo caso la spengo, comunque si può impostare su tre o quattro livelli mi pare e quando l'ambiente è buio ovviamente è molto molto utile. Una cosa che mi è anche piaciuta è che complessivamente il design non è affatto male, questo logo MSI nella parte superiore sembra quello di una scuderia, mi ci sono abituato in fretta, è anche carino tutto sommato, il computer è abbastanza compatto, le cornici dello schermo sono davvero sottili e anche lui stesso non è troppo pesante di 1,29 kg e la sua linea un po' a cuneo lo rende abbastanza slanciato. Mentre una particolarità è sul retro dove abbiamo questo effetto traforato con un design simmetrico che ovviamente è necessario per il discorso a reazione ma è anche carino, insomma è originale per cui bene. Ma parliamo subito di una cosa, cioè le connessioni, dove ci sono sicuramente degli aspetti positivi in quanto abbiamo due porte Thunderbolt 3 con USB-C 3.2 generazione 2, poi ci sono sempre da questa parte due piccoli LED, uno per l'attività e un altro per la batteria e infine una porta, o meglio un lettore di schede microSD. Poi dall'altro lato c'è qualche criticità secondo me perché sì abbiamo due USB-A ma queste USB-A sono 2.0, potenzialmente utili se dovete collegare magari un mouse o una tastiera ad alte prestazioni, quindi ad esempio nel gaming, ma dal punto di vista quotidiano alla fine sarà come non averlo perché se mettete qui una pendrive andrà a un decimo della sua velocità potenziale, quindi sicuramente sono delle porte un po' così, ecco magari avrei preferito avere il lettore DSD intero che non due porte che per quanto mi riguarda per il mio uso sono pressoché inutili. Sempre sul lato destro c'è la porta audio che è una combo, cioè funziona sia come in che come out e supporta ovviamente le cuffie e gli auricolari con il microfono. Insomma un set di connessioni che alla fine dei conti è abbastanza completo, ha dei punti negativi senza dubbio, però bisogna anche ammettere che in realtà solo con le due Thunderbolt 3 USB-C si può fare più o meno tutto e chiedete insomma ai MacBook Air o MacBook Pro proprio con due porte Thunderbolt 3. Vi voglio parlare delle caratteristiche tecniche più avanti perché secondo me ci sono diverse cose interessanti che vanno approfondite, però arrivati a questo punto almeno fatemi elencare ovviamente le cose più importanti. Abbiamo un processore i7 di decima generazione che tra l'altro è un 6 core 12 thread, è un processore diciamo a medio voltaggio, poi approfondiremo un attimo il discorso, comunque non consuma tanto ovviamente soprattutto a bassi regimi e questo ha dato la possibilità di creare uno spazio diciamo in termini di alimentazione per aggiungere anche una scheda grafica dedicata, una Nvidia Max-Q la serie G50 GTX, ho detto il nome esattamente al contrario, sarebbe Nvidia GTX serie G50 Max-Q, vabbè insomma avete capito quella scheda lì, che è una scheda abbastanza performante, consumi relativamente contenuti in questa versione Max-Q che si oppone diciamo alla Max-P, mi pare si chiami, che è quella diciamo tradizionale per portatile, poi abbiamo 16 GB di memoria LPDDR3, qui non ho ben capito perché sul sito Intel in realtà sembra che questo processore possa supportare anche la LPDDR4, ma comunque hanno scelto di inserire la LPDDR3. Le prestazioni secondo me reali tra queste due RAM nell'utilizzo impattano relativamente poco, ma questa è una mia personale opinione. Abbiamo poi 512 GB di SSD, ovviamente su PCI Express, quindi anche qui un SSD di buona qualità e abbastanza veloce, una batteria da 52 Watt ora e insomma un setup che mi sembra abbastanza valido per quello che è il prezzo di 1399 se non euro attualmente su Amazon, quindi un prezzo che onestamente sembra quasi esageratamente basso insomma per queste specifiche. E poi tutto sommato anche il display non è affatto male, abbiamo un pannello full HD con ovviamente 14 pollici di diagonale, la superficie è opaca, tra l'altro con un rivestimento molto valido, non è quelli un po' vecchi a scuola che si vedevano proprio i granelloni delle texture. Poi è un display con questa cerniera che arriva fino a 180 gradi, che non so effettivamente a cosa possa servire, almeno a me non è servita, però è sicuramente una cosa in più che non dispiace. Ma non è un display touch e non è ovviamente un display con la copertura lucida e questo significa che in realtà l'impressione del contrasto sarà leggermente inferiore, però è sempre uno schermo IPS, è uno schermo con il 100% di copertura dello spazio colore sRGB e con la risoluzione full HD alla fine secondo me si comporta molto bene. Inoltre unendo la buona luminosità e il fatto che sia opaco e quindi non incline ai riflessi, riusciamo ad utilizzarlo alla luce del sole meglio di tanti altri portatili. Ovviamente non è una visione perfetta, chi fa video sa che per quella servono almeno 1000-1200 nits, minimo veramente, però onestamente va meglio ad esempio di un MacBook Pro da 13 pollici che magari come luminosità, come schermo trovo più piacevole, però poi nel momento in cui c'è una fonte di luce questo va sicuramente molto molto meglio. E poi anche ben calibrato di fabbrica. Nel frattempo ho capito cosa serve a questo schermo, perché dietro a Sporge si può poggere il dito, guardate come riesco a tenerlo. Comunque c'è l'utility True Color preinstallata che sta nella barra delle notifiche, con il clic destro possiamo subito cambiare il profilo colore, quindi sRGB, possiamo passare a film, a blue light, insomma se vogliamo ridurre l'affaticamento degli occhi, e poi arrivando all'interno dell'utility, quindi avviandola, possiamo anche programmare per applicazioni il cambio di profilo colore, che è una cosa piuttosto interessante, e questo software supporta anche dei colorimetri esterni, come quello di X-Lite, quindi è piuttosto valida come soluzione, e complessivamente lo schermo secondo me è un aspetto riuscito. Non mi è piaciuto invece l'audio, che è piuttosto gracchiante, ha due speaker da 2 Watt che si trovano in basso, non vengono coperti quando il computer è sulla scrivania, perché le aperture sono proprio laterali, in una zona diciamo curva, però la potenza dell'audio è bassa, i bassi quasi non ci sono, i medi sono un po' impastati, gli alti vengono tagliati. In realtà facendo un passo indietro, direi che fino a 4, forse 5 anni fa, un audio del genere per un computer sarebbe assolutamente normale, sarebbe stato forse anche buono, direi. Ma oggi purtroppo, o per fortuna, abbiamo dei computer che hanno dimostrato che anche con un case persino più sottile di questo, con un po' di attenzione, possono tirar fuori un audio nettamente superiore, e in questo senso devo dire, i MacBook di ultima generazione, soprattutto quelli 2019 e 2020, stanno facendo un po' scuola. Fermatelo, fermatelo! Non fatelo arrivare all'acqua! Immersione, immersione, tutti dentro! Si stende! Fermatelo, fermatelo! Non fatelo arrivare all'acqua! Immersione, immersione, tutti dentro! Si stende! E poi, purtroppo, uno degli aspetti principe, diciamo, della negatività su questo Prestige 14, è un mix di costruzione e tastiera. Allora, la costruzione come materiali non è malvagia, è metallo, è anche piacevole sotto le dita, però è piuttosto leggerino, è un po' scricchiola, onestamente, e si flette, onestamente, non è una qualità costruttiva eccezionale. Mi piace il fatto che sia leggero, come vedete lo sto maneggiando in maniera veramente semplicissima, però, purtroppo, la qualità costruttiva è un aspetto negativo. Inoltre, siccome lo schermo ha questa particolare struttura, tra l'altro, molto positiva per la reazione, cioè che si abbassa e fornisce, in pratica, un piede di supporto che solleva la tastiera, significa che la tastiera avrà ancora una maggiore flessibilità. E, onestamente, flette. Flette che è un piacere, o meglio, un dispiacere. E altra cosa, ahimè, molto negativa, aspettate che metto l'impronta così si sblocca, è che la tastiera ha un layout italiano che in realtà non è un layout italiano. O meglio, sembra che abbiano preso la tastiera, anzi, statunitense, e abbiano semplicemente cambiato i keycaps. Quindi ci sono, ovviamente, è una tastiera QWERTY, ci sono anche i simboli nel punto giusto, anche quelli in doppia funzione, ma ci sono diverse differenze nel layout che, per me, non sono tanto accettabili. Nel senso che, ad esempio, non c'è il tasto maggiore e minore a sinistra della Z, l'invio non ha la classica forma A7 o AL capovolta, come volete chiamarla, ma al suo posto, nella zona superiore, c'è la U accentata, che, tra l'altro, io premo mille volte al giorno, perché, istintivamente, io con il mignolo premo la parte superiore d'invio, me ne sono accorto proprio con questa tastiera, perché, comunque, è anche la parte un po' più larga, solitamente, sulle tastiere ISO italiane. E poi, tante altre cose non mi sono piaciute. Ad esempio, quel tasto maggiore e minore è stato posizionato così, random, tra ALT, GR e CONTROL, i tasti freccia, sono a dimensione intera, che è una cosa interessante, anche positiva, se vogliamo, ma non se poi vanno ad incastrarsi così, tipo puzzle con shift, quindi se uno ha la memoria muscolare, di trovare shift sotto invio, rischia mille volte di premere il tasto freccia su. Stessa cosa anche per i tasti laterali, che hanno aggiunto qui in colonna, per page up, canch, ins, e roba del genere, che sono molto comodi, potenzialmente, ma purtroppo vanno a spostare tutto il layout centrale della tastiera a sinistra, e quindi si perde il riferimento rispetto allo standard, diciamo, con il centro del case, e anche con il touchpad. Ora, non che sia una cosa gravissima, per carità, io ritengo che, bene o male, acquistando questo computer, utilizzando prevalentemente questa tastiera, dopo un po' ci si abitua, chiaramente, ma, intanto, secondo me, non è giusto abituarsi a qualcosa di sbagliato, perché, alla fine dei conti, la tastiera ISO italiana esiste per un motivo, ci dà la possibilità di cambiare computer, di cambiare tastiera, e avere dei riferimenti costanti. Qui, purtroppo, non è così, per cui, sì, vi potete abituare, ma, secondo me, non è stata una cosa tanto intelligente, o comunque tanto positiva, da parte di MSI. Così come non mi è piaciuto neanche il tasto di per sé, perché è un millimetro, forse mezzo millimetro più grande del dovuto, che sembra una sciocchezza, ma comunque rende i tasti un po' troppo vicini, quindi, quando scriviamo, andiamo sempre a toccare il tasto limitrofo, comunque ne avvertiamo molto spesso la presenza, e quella cosa è una sensazione che a me non piace. Infine, anche proprio il tasto nella pressione è un po' morbidino, insomma, non ha un feedback particolarmente preciso. Quindi, esperienza di scrittura, tastiera e costruzione, come avete capito, finora sono gli aspetti un po' negativi di questo Prestigio 14. Per l'hardware MSI ha fatto delle scelte molto interessanti, vi dicevo, e anche i risultati secondo me sono buoni. Infatti ha preso un processore i7 di decima generazione, ma ha preso quello con la componente grafica Intel UHD, quindi proprio il minimo sindacale di questa generazione. Questo ha consentito di non sprecare, diciamo, consumi dove non fossero necessari, e abbiamo questo processore che ha una flessibilità sul fronte dei consumi davvero elevatissima. Infatti, in idle va su un watt e mezzo, due watt, a regime, anche in uso, sta sui 14-15, tra l'altro questo è il tetto massimo che gli è consentito quando il computer funziona a batteria, mentre quando è alimentato arriva anche a picchi di 45 watt, con una frequenza operativa che sale a un massimo di 4,2 GHz nei miei test. Quindi è un processore davvero flessibile, ma che riesce ad avere una buona erogazione di potenza anche con 15 watt, lasciando lo spazio alla Nvidia GTX 1650 Max-Q, una scheda che ha prestazioni tipo 4 volte quelle della Iris Plus G7 più potente di questa generazione, che è quella che troviamo, ad esempio, all'interno di un MacBook Pro 13 pollici top di gamma. Ora, questa scheda grafica ha un consumo di cartellino di 35 watt. Nelle implementazioni all'interno del Prestige 14 consuma invece 30-32, ma questa alimentazione gli è garantita anche a batteria. Quindi quando siamo in mobilità, le prestazioni della grafica in realtà cambiano veramente poco e quello che viene il contratto è il processore, che come vi dicevo ha un tetto massimo di 15 watt nel momento in cui siamo a batteria. Questa soluzione, secondo me, è piuttosto interessante, anzi, io la trovo assolutamente centrata per questo computer, perché nel momento in cui acquisto un prodotto con una scheda grafica dedicata, vorrà dire che mi serve, nel senso che potrei o spendere di meno, o spendere la stessa cifra, e prendere un computer che ha un processore più potente e una grafica magari integrata. Se invece vado per una soluzione di questo tipo, io ci tengo che la grafica abbia la sua buona prestazione anche in mobilità. E così è nel Prestige 14, dove in effetti ho fatto un confronto con il MacBook Pro da 16 pollici con Premiere per l'esportazione di un video di 10 minuti, alla fine le differenze in termini di tempo sono davvero pochissime, che non è una cosa affatto banale per un computer che costa meno della metà. Sul sito e in descrizione troverete il link alla recensione completa con altri grafici, altri test e via discorrendo, quello di cui vorrei però parlare è un piccolo aspetto negativo, secondo me, che è quello della rumorosità. Ora, quando noi vogliamo ottenere il massimo delle prestazioni da questo computer, ed è quello che ho fatto io in tutti i benchmark, dobbiamo attivare nella modalità MSI Creator quella ad alte prestazioni. Ora, questo è un aspetto interessante, perché d'altro canto abbiamo anche la modalità che ci dà la possibilità di estendere al massimo la durata della batteria, che può arrivare anche a un 12 ore circa nei miei test, mentre con il bilanciato si sta più o meno su un 4, 5, 6 ore, secondo ovviamente dell'utilizzo, e con quelle alte prestazioni ed un utilizzo che va intensivamente a sforzare sia il processore che la scheda grafica, in un'ora e mezza anche meno ovviamente si scarica, ma è assolutamente normale, vi ricordo, la batteria è da 52 wattora. Ora, il discorso però è quello della ventola, vi dicevo prima, perché basta lanciare un'applicazione che fa uso della scheda grafica che automaticamente partiranno le ventole. E dà fastidio. Non è molto rumorosa, però, insomma, si fa sentire. E questo succede ovviamente anche nel gaming. E visto che poi sul fronte dell'audio non abbiamo un volume o comunque una qualità particolarmente elevata, sarà quasi sempre necessario, diciamo, utilizzare delle cuffie. Quindi questo è un aspetto che poi, a livello ergonomico, al di fuori della qualità costruttiva o della tastiera, mi ha dato un po' fastidio, cioè le ventole girano un po' troppo più, diciamo, del necessario. Anche perché in realtà la ventola è una sola e poi ha una lunga heat pipe con due corsie, diciamo, che va a collegare sia il processore che la scheda grafica. Quindi, tutto sommato, la reazione è sufficiente per erogare quelle che sono le prestazioni dell'hardware, ma non è, diciamo, abbondante da garantirci anche un funzionamento silenzioso. Però, alla fine, stiamo sempre parlando di un 14 pollici con una scheda grafica dedicata che spinge davvero tanto, considerando quella che è anche la batteria in dotazione. Ed ecco perché mi piace il Prestige 14, cioè non è un computer perfetto, però MSI ha proposto una sua ricetta e questa è stata rispettata in maniera ottimale. Cioè, è un computer che privilegia le prestazioni, quindi l'hardware, in un formato compatto, da 14 pollici, e al tempo stesso anche con un prezzo contenuto. Tre cose che insieme non è affatto facile trovare altrove. È chiaro che da qualche altra parte si è dovuto contenere un po' la spesa e questo si vede sul fronte, diciamo, ergonomico dal punto di vista della costruzione, che non è il massimo per la tastiera o anche per l'audio. Ma nel momento in cui si sa quello che si compra e si sa, ovviamente, quello di cui si ha bisogno, questo Prestige 14 può essere un'ottima opzione. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso un like, grazie, e poi ovviamente i commenti, ricordate, sono fondamentali per me. Se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video e vi lascio in sovraimpressione ma anche in descrizione i riferimenti per il canale Telegram delle Sagge Offerte, fondamentale, da seguire, molto molto utile, e poi anche il nostro profilo Instagram. Con questo è tutto, al prossimo video. Ciao! Abbiamo infatti un processore E-Tel 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 Sarai 7 Intel. C'è anche da dire che gli sticker che mettono ancora oggi sui case secondo me sono una roba aberrante. Ovviamente non è colpa di MSI succede con quasi la totalità dei computer non Apple e mi chiedo cosa si... Cioè, ci vuole tanto capire che fa schifo. Vabbè. E-Tel E-Tel